Sfiorata la tragedia, ieri pomeriggio ad Eboli, due ragazzi sono stati investiti da un'automobile mentre attraversavano la strada in pieno centro. Un'automobile condotta da un uomo 73enne ha investito i ragazzi, entrambi i 24enni, che attraversavano la strada sulle strisce pedonali a ridosso di Piazza della Repubblica. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno trasferito i ragazzi in ospedale e uno dei giovani ha riportato ferite all'anca. E gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, diretti dal comandante Mario Dura, hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente stradale. Fortunatamente i due pedoni investiti non sono in pericolo di vita.